Musica Lusso, sigarette più care, stop ai farmaci, apertura sulla Tobin Tax, Bersani sulle liberalizzazioni, poco coraggio. Fassina, soddisfatti delle modifiche alla manovra ma c'è ancora molto da fare. Firenze ha lutto per i senegalesi uccisi, per il PD impossibile accettare una deriva di questo genere, è necessario tornare ai civili. Tam Tam Democratico, il PD presenta il numero della rivista dedicato ai cattolici e alla ricostruzione italiana. Buonasera a tutti e ben trovati a PD oggi. Sono passate le ore, ha presa forma la manovra economica su cui il governo chiederà la fiducia domani alle ore 10. Sul testo, così come è uscito dalla Commissione Bilancio e Finanze. L'aula sarà convocata quindi venerdì mattina alle ore 9 per le dichiarazioni di voto e dalle 10 alle 12 si svolgerà invece la chiama per il voto. Quindi poi inizierà l'esame sugli ordini del giorno e alle 18.30 ci saranno le dichiarazioni di voto finale. Intorno alle 19.30 invece il voto finale. L'iter del testo quindi dovrebbe culminare intorno a questo orario. Ma oggi sta una giornata veramente difficile. Abbiamo visto l'ostruzionismo della Lega che ha tentato di allungare ancora di più i tempi. Ma qual è il giudizio del Partito Democratico sulle modifiche che sono state apportate al testo della manovra economica? Vedremo punto per punto tutti quanti i passaggi fondamentali. Ma iniziamo con il giudizio complessivo. Pierluigi Bersani. Certamente le modifiche vanno nella direzione che noi abbiamo spiccato e credo, mi fermo a dire questo, che queste modifiche recchino visibilmente il segno anche del nostro lavoro e del nostro impegno. Aggiungo che il mondo non finisce qui e quindi noi contiamo anche nei prossimi mesi, insomma, di far valere le nostre idee. Io ho sempre detto in questa situazione parlamentare, che è quella con cui uscimmo dalle elezioni precedenti, non possiamo certo pretendere di vedere realizzati il 100% di quel che faremo noi, ma intendiamo che le nostre idee pesino. In questi aggiustamenti alla manovra abbiamo visto questo e, ripeto, il mondo finisce qui e credo che lo vedremo anche nel futuro. Aggiungo naturalmente che non tutto quello che è uscito ci piace. Abbiamo presentato anche emendamenti che andranno in aula dopo una chiusura troppo brusca del lavoro in commissione su alcuni punti. Siamo abbastanza stupiti di una certa diminezza sulle liberalizzazioni, francamente. Fermo a dire questo. Siamo piuttosto stupiti, per non dire stupefatti, di alcune debolezze sui temi della liberalizzazione. Abbiamo alcuni punti, ad esempio, su cui noi continuiamo a insistere, insomma, queste penalizzazioni per i lavoratori precoci che devono raggiungere l'età pensionabile, non ci sembra giusta. E quindi, insomma, ci sono ancora un paio di questioni sulle quali stiamo lavorando. Però nell'insieme l'andamento delle cose ha segnalato anche un lavoro efficace che siamo riusciti a svolgere. Un giudizio positivo, insomma, anche se sulle liberalizzazioni si può fare di più. Ma sui miglioramenti a rivendicare il lavoro svolto c'è il capigruppo del PD alla Camera, Dario Franceschini. Grazie all'impulso del PD il Parlamento ha portato molte modifiche in direzione dell'equità, come ha riconosciuto lo stesso Presidente Monti. A cominciare dalla garanzia degli aumenti alle pensioni basse, all'aumento della franchigia sulla ICI per la prima casa, a un tetto nuovo e severo per le grandi retribuzioni dei dipendenti pubblici, al prelievo di queste risorse dallo scudo fiscale, aggiungendo anche una richiesta alle grandi rendite finanziarie e ai grandi patrimoni. E la conferma dell'adeguamento degli stipendi dei parlamentari alla media europea. Mi pare che queste cose dimostrino che il lavoro è stato fatto positivamente nell'interesse del Paese. Ma andiamo a vedere nel particolare gli emendamenti del Partito Democratico, illustrati dal relatore Pierpaolo Baretta. Il Partito Democratico presenterà in aula tre emendamenti alla manovra di Monti. Di cosa si tratta? Di tre questioni che noi consideriamo irrisolte nella discussione di questi giorni. Il fatto che siano tre è già significativo della importanza del lavoro fatto finora. Il primo riguarda le liberalizzazioni. Ci sono due aspetti che non ci convincono relativi alle farmacie e relativi all'autorità sui trasporti che è stata decurtata ad un certo punto della serata di ieri dal comprendere anche il settore della gomma e dell'autotrasporto che invece devono rientrare. Le farmacie c'è una scarsa liberalizzazione soprattutto rispetto ai farmaci. E il terzo è la penalizzazione che è prevista per i lavoratori che avendo maturato 42 anni di contributi ma non avendone ancora 62 di età riceverebbero una penalizzazione del primi due anni dell'1% e successivamente del 2% che ci sembra francamente ingiustificata. Per quanto riguarda invece le modifiche sulle pensioni e sull'Imu c'è soddisfazione? Sì, direi con l'aggiunta di questo riferimento alla penalizzazione per coloro che hanno maturato i 42 anni di contributi per il resto c'è una buona soddisfazione e anche un buon risultato. Abbiamo ottenuto il miglioramento per quanto riguarda la cosiddetta terza fascia cioè coloro tre volte in minimo fino a 1.400 euro sono tutti coperti e indicizzati per tutti e due gli anni e si tratta complessivamente di una decina di milioni di persone solo la terza fascia salvata ieri sera sono 4 milioni. Anche sulla famiglia è interessante l'innovazione sul criterio. Il fatto che oltre ai 200 euro uguali per tutti generalizzati i successivi fino a un massimo di 400 siano legati al criterio del numero dei figli beh insomma è una risposta finalmente concreta alla questione della famiglia. E per il responsabile economico del PD Stefano Fassina c'è soddisfazione per quanto riguarda la manovra anche se c'è ancora molto da fare. Vediamo il perché. La manovra è arrivata in aula, il PD ha lavorato molto per renderla meno iniqua quali sono stati i criteri? I criteri sono stati quello di evitare che dopo tre anni e mezzo di governo Berlusconi che ha fatto pagare i prezzi più elevati ai redditi bassi, ai redditi medi ai lavoratori dipendenti, ai precari, alle piccole imprese continuassero a pagare gli stessi quindi grazie anche alla nostra iniziativa in commissione bilancio è stato reintrodotto l'indicizzazione piena per le pensioni fino a tre volte il minimo cioè fino a 1420 euro è stato fatto qualche passo avanti sull'ici e qualche passettino avanti sulle pensioni di anzianità. Noi riteniamo che ci siano ancora difetti di equità profondi che vanno corretti per questo in aula abbiamo presentato alcuni emendamenti in particolare per quanto riguarda l'eliminazione delle penalizzazioni sui lavoratori e le lavoratrici che vanno in pensione con 42 anni o 41 anni di anzianità contributiva. Quindi il PD si può dire soddisfatto e quanto ha contribuito a cambiare questa manovra? Ma soddisfatto ritengo pienamente soddisfatto no abbiamo fatto un lavoro importante in parte il governo ha raccolto le nostre proposte ma solo in parte e quindi dobbiamo insistere perché ci sono degli elementi di equità che vanno corretti. Un altro tema importante è quello delle liberalizzazioni il PD su questo anche non è soddisfatto pienamente? No, non siamo soddisfatti perché sia per quanto riguarda la vigilanza di autostrade che è stata sottratta all'autorità che si occupa dell'intero settore dei trasporti sia per quanto riguarda le parafarmacie e la vendita dei farmaci ci sono stati dei passi indietro all'ultimo minuto di cui è prima persona responsabile il presidente della commissione bilancio l'onorevole Conte anche su questo in aula abbiamo presentato vendamenti per correggere questi difetti perché liberalizzazioni vuol dire anche equità vuol dire anche possibilità di sviluppo possibilità di lavoro in particolare per le generazioni più giovani. E chiudiamo questa prima parte di giudizio complessivo sulla manovra per andare a vedere dei passaggi fondamentali che sono stati fatti da Pierluigi Bersani a margine della conferenza di presentazione del numero della rivista democratica Tantam e che hanno toccato dei temi fondamentali economici dalle province all'Ici fino all'assegnazione delle frequenze televisive ma partiamo dai tagli alle province. Non ho difficoltà a dire, non è da oggi che io sono perché la dimensione provinciale piuttosto che essere come dire ristrutturati in accorpamenti potrei farvi qualche citazione da dibatti parlamentari di fino a 800 nei quali c'era già questo tema e c'erano parlamentari che intervenivano ma tu per darti un'identità cosa dici? Sei di Modena sei di Potenza sei non è così semplice andare attorno a questo tipo di dimensione identitaria è più ragionevole farne organismi di secondo livello e quindi vedere un meccanismo per cui diciamo senza bisogno di bardature le province siano espressioni nel loro territorio direttamente dai comuni con i rappresentanti dei comuni quindi quel che va su quella strada per noi va bene sulle procedure anche in questo caso i modi i tempi eccetera noi ci siamo rimessi all'iniziativa del governo che ha fatto ha preso una sua norma adesso per chi deve guardare diciamo ci sono profili di costituzionalità delicati che bisogna affrontare chi deve guardare li guarderà ma noi diciamo non abbiamo difficoltà ad approvare questa norma la direzione di marcia è quella secondo me che dicevo cioè farne organismi di secondo livello e anche qui cercando di portare il dibattito a delle cose razionali perché se abolendo le province davvero risparmiassimo 18 miliardi di euro non avrei ecco come ha scritto così perché poi qui si dice stiamo parlando della formazione oppressionale delle strade poi se vogliamo le buche delle strade ecco per amor di Dio ecco mentre si può effettivamente cioè 5 livelli di governo non possiamo reggerli con meccanismi come quelli da adesso quindi riconduciamo le province a organi di secondo livello risolviamo il problema così e chiudiamo la legge vi diamo anche un aggiornamento una dichiarazione dell'ex ministro Gelmini tutto avrei immaginato tranne che andare d'accordo con Bersani ha ragione le liberalizzazioni del governo Monti sono troppo timide al tweet di Mere Stella Gelmini proseguiamo con il commento di Bersani su alcuni passaggi fondamentali di questa manovra e adesso parliamo dell'ICI per la Chiesa e per Bersani è da rivedere ma bisogna fare anche un giro per le Caritas noi abbiamo detto al governo anche qui una cosa molto chiara c'è una norma che parla che parte da un concetto che condividiamo assolutamente e che è quella della separazione delle funzioni commerciali dalle funzioni altre e questo è il punto la norma che parla di funzioni esclusivamente commerciali ha dato luogo ad un'applicazione ambigua e lo stesso il Cardinal Bagnasco riconosce che c'è qualcosa da aggiustare nell'applicazione di questa norma quindi noi abbiamo detto al governo o si aggiusta la norma o si fa una norma applicativa più chiara per uscire da questa ambiguità che non giova nessuno quindi noi siamo perché ciò che è commerciale paghi io aggiungo anche ma è un'autocitazione che ha una campagna troppo diciamo sbrigativa sul tema io ho consigliato prima facciamo un giro dalle Caritas diocesane a vedere cosa stanno facendo poi discutiamo su quel principio che ho detto ma prima facciamo un giro perché se no non si capisce diciamo la natura la proporzione la proporzione del problema ecco con questo atteggiamento credo davvero che sia convenienza di tutti e comunque un obbligo ineliminabile che venga fatta chiarezza su questo punto una formula potrebbe essere quella di chiarire la norma e di più direttamente impegnare i comuni con delle paratie diciamo meglio definite a diciamo sceverare a discernere situazioni che effettivamente a volte hanno dei punti difficili da dirimere ecco e quindi una fascia diciamo di autonomia comunale di andare a vedere caso per caso ma dentro a un criterio meglio definito un altro aggiornamento la legislatura non è finita con la manovra noi continueremo a insistere sui contenuti a cui teniamo queste le parole di Dario Franceschini il riferimento è in particolare all'abolizione delle penalizzazioni per i lavoratori che vanno in pensione con 42 anni di contributi ma prima dei 62 anni di età altra notizia del giorno si è dimesso Enrico Mentana il direttore del Tg della Sette lo ha reso noto lui stesso dopo aver appreso la notizia di essere stato denunciato alla magistratura ordinaria da parte del comitato di redazione della testata lo stesso CDR però ha smentito non è mai stata fatta nessuna denuncia e rinnoviamo la stima al direttore vedremo insomma come andrà a finire altro tema caldo della giornata l'assegnazione delle frequenze televisive anche su queste teme il PD ribadisce che non bisogna buttare via le risorse sulla frequenza di voce aspettiamo dal governo un atteggiamento coerente la posizione l'abbiamo detta ribadita e chiarita anche al governo noi ci aspettiamo che il governo prenda decisioni coerenti con quello che è la situazione non credo che sia un tempo da concorsi di bellezza ecco e quindi noi chiediamo che questa procedura venga sospesa e venga reimpostata in termini capaci anche di non diciamo regalare risorse e quindi ci attendiamo iniziative del governo che possono essere in questa manovra possono essere anche fuori da questa manovra questa è la nostra posizione punto ecco io non so di inciuci poi questa parola siccome l'ho vista rivolta anche verso di noi non si permettano non si permettano punto non si permettano noi stiamo facendo quel che facciamo in assoluta trasparenza verso gli italiani e verso i nostri elettori sul punto preciso questa è la nostra posizione detta e ribadita e ci aspettiamo che vengano prese dal governo nuove determinazioni a proposito della gara per le frequenze oggi in aula l'atteggiamento della lega è stato di completo istruzionismo sia alla camera dei deputati che al senato allora andiamo a sentire Anna Finocchiaro francamente io ho trovato invece molto interessante la risposta del presidente Monti e ho trovato anche che in questa risposta ci fosse ancora una volta nonostante tutto il tentativo di portare sul terreno della razionalità e non della propaganda politica la discussione perché il presidente Monti ha detto che la pressione fiscale sulle imprese e sulle famiglie può diminuire se l'idea italiana che è quella della tassazione sulle rendite finanziarie che è un'idea fortunatamente condivisa in Europa potrà prendere corpo per un paese che era abituato non solo a non tassare le rendite finanziarie ma anche a premiare diciamo le operazioni anche elusive nei confronti delle regole fiscali a me pare invece un'affermazione molto seria e anche con un cuore di speranza dentro voglio essere molto chiara penso che quando arriverà al senato la manovra sarà una manovra già blindata la Lega ritiene di fare così un po' propaganda alle proprie isolatissime mi pare nello scenario politico opposizioni io l'ho trovato non soltanto sbagliato e non soltanto anche un po' umiliante diciamo ma trovo anche che sia il segno di una forte irresponsabilità da parte della Lega perché se il Presidente del Consiglio di un Paese che tanto sta puntando sulla riconquista di un ruolo e di un'autorevolezza in Europa indispensabile non soltanto per tirare fuori l'Italia fuori dalla crisi ma anche per dare una speranza all'Italia alle sue imprese alle sue famiglie se l'intervento di questo Presidente del Consiglio così puntuale peraltro viene interrotta da una gazzarra insensata e orientata solo a fili propagandistici l'idea dell'Italia del suo Parlamento della tenuta del suo sistema politico nello sforzo comune francamente viene fortemente appannata mi chiedo come verrà commentato domani sui giornali di tanti altri paesi europei di questo episodio dire sgradevole troppo poco e cambiamo argomento a Firenze Saracinesche abbassate lutto cittadino per ricordare i due ambulanti senegalesi che sono stati uccisi da un estremista di destra italiano per il PD si tratta di una strage davvero insopportabile e inaccettabile quando scattano acutamente in Italia dei problemi tipo questi due che chiamiamo senegalesi ma si chiamano Samodù e Diomor signor Samodù e signor Diomor ammazzati come dei cani secondo me vanno vanno in cavalleria tante altre cose e lì si vede l'origine di quel che stiamo dicendo sia quando Papa Rassinger ricorda l'incrocio fra la cultura greca e la cultura gidaico cristiana Xenos era lo straniero e l'ospite per i greci razionali e Paolo nella lettera agli ebrei diceva accoglilo che potrebbe essere un angelo più di tutto è questo qua che ci tiene assieme non possiamo accettare un paese dove ci siano delle derive di questo genere non è possibile bisogna che torniamo civili che reagiamo a queste cose sul piano culturale della battaglia ideale figuriamoci se non sappiamo le increspature dell'immigrazione saremo realisti non saremo buonisti sappiamo come conciliare i valori con la mediazione però per bacco no eh non può passare sta roba qui e gli zing non è possibile nel luogo della cristianità e nel luogo di una laicità consapevole dell'uomo non può esistere una cosa così è una vergogna cambiamo di nuovo argomento perché oggi c'è stata l'autorizzazione per l'uso delle intercettazioni per l'indagine a carico dell'ex ministro Saverio Romano entro Natale invece la camera dei deputati dovrà votare sull'arresto di Nicola Cosentino allora sentiamo due voci in proposito Anna Rossomando del PD e Beatrice Lorenzin del PDL L'aggiunta per l'autorizzazione del procedere della camera ha detto sì all'uso delle intercettazioni nei confronti dell'ex ministro Saverio Romano la Lega ha votato insieme al centro-sinistra che significato ha questa decisione di oggi? Ha il significato che di distinguere ancora una volta tra quelli che rischiano di essere dei privilegi ingiustificati qualora passasse un diverso trattamento tra chi riveste il ruolo di parlamentare e un comune cittadino quando viene diciamo così colpito da un provvedimento di un giudice e invece quelle che sussistendono i presupposti sono delle giuste e sacrosante garantige del Parlamento noi purtroppo ci siamo abituati in questi tre anni a discutere tutte le volte che si parlava di giustizia o anche di provvedimenti di autorizzazione a procedere in termini che non erano quelli del dettato costituzionale perché l'autorizzazione ricordo ancora una volta può e deve essere negata soltanto se emerge il cosiddetto fumus persecuzioni il mio partito ha dimostrato nei fatti governando la serietà nella lotta alla mafia e alla camorra poi ci sono delle questioni che sono sospese che riguardano il PDL come il PD come tutte le forze politiche alcune di queste che vedranno poi luce nel tribunale quindi tutti noi sapremo la verità su alcuni casi altre che hanno avuto negli anni il sapore un po' di accanimenti e anche questo purtroppo è registrato dalla storia allora io credo che da questo punto di vista i partiti politici debbano fare molta molta seria attenzione nella selezione delle proprie candidature vedo sull'arresto di Cosentino invece è smentito sì sì assolutamente perché abbiamo iniziato proprio solo oggi la discussione con la relazione del collega Paniz e adesso c'è una discussione in corso contiamo comunque di arrivare a una decisione sicuramente prima di Natale Tan Tan Democratico il partito democratico è presente il numero della rivista dedicato ai cattolici alla ricostruzione italiana è uscito il nuovo numero di Tan Tan Democratico mensile online di cultura politica questa volta si parla del ruolo dei cattolici nella ricostruzione italiana a presentarlo oltre al segretario e al presidente del PD anche il direttore editoriale Franco Monaco e il coordinatore del comitato editoriale Alfredo Dattorre proprio Dattorre snocciola i numeri che stanno rendendo grande questo esperimento editoriale più di 100.000 visite al sito www.tantandemocratico.it e oltre 70.000 preferenze su Facebook un interesse positivo per questo progetto che sempre nelle parole di Dattorre vuole essere uno strumento di riflessione per far incontrare non soltanto dirigenti e militanti del PD ma il mondo delle competenze e dei saperi proprio come è successo in quest'ultimo numero che ha visto protagonisti i rappresentanti del mondo associativo cattolico un argomento di grande attualità che ha come oggetto il contributo materiale e morale che i cattolici possono dare alla ricostruzione del nostro paese il direttore editoriale Franco Monaco ha ricordato come questo universo cattolico così in fermento non è strano al mondo democratico ma anzi lo attraversa e lo interpella per avere risposte concrete e per essere preso finalmente sul serio una sfida che il segretario Bessani accetta volentieri perché da sempre ha a cuore la convivenza all'interno del PD di persone non credenti e credenti tutti i partiti sono di credenti e non credenti che novità sarà eppure a noi suona perché il tema ci interessa questa è la differenza non lo prendiamo come un'ovvietà lo prendiamo come un potenziale bacino di risorse per l'identità politica del nostro partito per questo ci occupiamo semplicemente per questo perché pensiamo che sia una risorsa formidabile per la politica che abbiamo davanti e quindi ci ingaggiamo e quindi cerchiamo di capire come da questa fusion diciamo così possa venirne una politica che abbia alle spalle dei valori condivisi che non galleggi sul quotidiano anche essendo capace come necessario di mediazione un'ultima segnalazione Dario Franceschini che commenta la mostra fotografica sulla primavera araba promossa proprio dal gruppo PD alla camera camminando davanti a questa fotografia penso che avete trovato la stessa situazione anche voi ognuno avrebbe voglia di farle vedere una persona cara a cui si tiene perché non vedendola si perde qualcosa vedere le facce dei giovani degli anziani le facce delle donne davvero si capisce meglio di ogni descrizione a parole che cosa è successo a pochi chilometri da noi senza che noi non ce ne accorgessimo questa è la domanda vera che dobbiamo porci come è possibile che l'Italia nella sua collocazione geografica ma anche tutto il mondo occidentale non avesse in nessun modo capito tranne forse alcuni degli lavori ma insomma nei media nello straordinario fermento che ha portato a questa esplosione e a questa domanda di demografica che ho visto per passione tanti mostri fotografici nella mia vita tanti libri fotografici ma davvero è la qualità delle singole fotografie sia per la qualità fotografica ma anche per il messaggio assolutamente netto duro entusiasmante che arriva da ogni singola foto credo che molto meglio di tanti saggi racconti articoli che descrivano la stagione straordinaria che adesso finiamo la primavera e con la mostra sulla primavera araba chiudiamo questa nostra trasmissione grazie a voi per averci seguito e buona serata